allora questo video lo vado a registrare così molto di getto dopo aver letto erika non c'è dorme con ginevra e lorenzo sta con loro sul letto io non lo so ma come fa la gente ad aggredire noi perché stiamo facendo crescere ginevra nostra figlia con un cane lorenzo cane lupo ciecoslovacco allora io nei nostri video cerco sempre di portare un sorriso un pizzico di informazione intrattenimento qualche volta per bambini o per famiglie faccio questo video per rispondere a tutte le persone che stanno aggredendo senza sapere quello che facciamo inerente al nostro ultimo video il video in cui ginevra si fa leccare la mano da lorenzo e poi sorride lorenzo è un cane abituato ad essere manipolato lorenzo è un cane cresciuto in famiglia lorenzo un cane che ha una vita sociale pazzesca e detto ciò mi viene il volto al stomaco quando leggo di persone che fanno il tifo sentite per il cane che deve mordere la bambina come mai sta cosa non capisco che problema avete a vedere un cane che interagisce con un figlio che problema avete io penso che sia la cosa più bella del mondo far crescere un cane con un bambino il bambino diventa più intraprendente più aperto impara il rispetto per gli animali è uno stimolo in più lei inizia ad aggattonare quando c'era lorenzo per terra perché voleva andare da lui ce lo capite io devo avere paura di pubblicare i miei video nella nostra intimità nei nostri momenti perché poi dopo ti arrivano persone tantissimi di voi per carità che ci seguono i fedelissimi raga aiutateci anche voi a difenderci da questi attacchi ma poi ti arrivano persone che ti dicono allora così no perché la bambina si voglia le malattie fate schifo genitori ignoranti cos'è che ho letto il piccolo goblin verrà morso il piccolo goblin verrà morso da quel cane dovrebbero chiamare i carabinieri chiamate gli assistenti sociali perché 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 mia figlia interagisce con un cane allora arriverà il momento in cui quel cane si ribellerà impazzirà e morderà la bambina non vedo l'ora di vedere un'intervista in televisione vi giuro questi sono commenti che ho letto che voi non vedete perché ne nascondo vedere vedrete un'intervista in televisione dove si diceva ama il cane era buono no e poi dopo fa una strage tutti commenti che ho letto e che nascondo perché dopo succede che so che voi che ci volete bene che ci seguite ci difendete e si innescano una serie di insulti me non va perché comunque quei video vengono visti i nostri video vengono visti anche da bambini che non mi va che un bambino legge insulti e parolacce sotto i nostri video quindi io cancello tutti premessa quindi a queste persone che che dicono di farci torto io voglio soltanto dire che non li blocchiamo li cancelliamo all'istante quindi se vi divertite a commentare fatelo pure ma dopo verrete bloccati e cancellati a vita e però noi continueremo a fare quello che facciamo e il fatto che voi ci commentate in questo modo così cattivo malvagio aggredendoci e facendosi passare come 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 quelli che stanno sacrificando la vita di un neonato a discapito di un video pur di girare un video pur di girare un video sacrifichiamo la vita di nostra figlia per far vedere che i cari sono buoni questa è fulminata di testa c'è qualche cosa nell'aria che li fa andare fuori di cervello beh sappiate che noi non ci fermeremo no continueremo anzi ancora di più ancora di più ancora di più perché il mio obiettivo è quello di dimostrare che crescere un bambino con un cane si può poi per carità vi posso dar ragione se mi dite che il cane non deve essere mai lasciato da solo con un neonato ma questo lo dico anche io lo sto dicendo a martello mai lasciare un cane da solo a fare il babysitter con un neonato il cane pur sempre un animale gli può far sempre del male in qualunque modo anche soltanto se si gira lo butta per terra contatti cani neonato devono sempre avvenire sotto la supervisione di una persona adulta sempre ma questo lo ripetiamo in continuazione è il fatto che voi commentate in quel malo modo cercando di aggredire quello che noi facciamo e distruggere quello che ne facciamo perché guardate c'è stato un lavoro dietro a noi non ci paga nessuno per portare avanti questo messaggio la nostra ricompensa sono le persone che ci vogliono bene quando ci scrivete in privato e ci dite grazie che mi avete risollevato la giornata siete un raggio di sole i miei figli salutate i miei figli vi seguiamo sempre persone che ci vogliono veramente bene vi ho incontrato l'altra volta grazie mi avete reso la persona più felice del mondo ecco noi regaliamo questo sorriso qua non chiediamo nulla in cambio e il fatto che ci sono queste persone che vengono a commentare in maniera così cattiva mi fa capire che voi passate commentate distruggete insultate accusate e poi andate via non si fa così perché dietro il nostro video c'è molto lavoro e a ripeto non si paga nessuno per farlo il nostro obiettivo è quello di divulgare e far vedere poi per carità non tutti sono capaci di gestire i cani ma parliamoci chiaro non tutti sono capaci nemmeno di gestire i figli noi per fare intraggire lorenzo goginevra e far sì che siano sereni entrambi ci facciamo un bucio di culo così grande ci siamo fatti io con lorenzo personalmente ho perso la mia vita sociale non tutti sono capaci di farlo non tutti sono capaci di farlo ripeto non accetto minimamente che veniamo additati contro i criminali di guerra che stanno sacrificando la vita della loro bambina pur di fare un video non è così non è così perché noi stiamo dimostrando con i fatti che se si usa l'intelligenza se c'è voglia di lavorare vivere in casa creare una famiglia cane neonato mamma papà si può fare ma serve l'impegno indovinate da parte di chi da parte dei genitori da parte dell'adulto non del cane non del neonato è l'adulto che deve dirigere tutte le fila per far sì che tutto funzioni bene comunque avevo bisogno di sfogarmi avevo bisogno di essere capito perché è frustrante leggere 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 e tenere tutto quanto dentro e voglio dire a tutti che noi non ci fermeremo ne vedrete delle belle pensate un po' quando ginevra metterà i piedini per terra e comincerà a camminare pensate un po' quando incomincerà a portare lorenzo a spasso lei quanti commenti che arriveranno da queste persone cioè io sto documentando e sto creando materiale prezioso che in giro non si trova non c'è nessuno lo fa nessuno fa vedere il percorso di crescita dei loro figli con un cane abbiate pazienza lo stiamo facendo gratis ma secondo voi a me da piacere restare con la macchinetta in mano mentre mia figlia fa cose e non godermi l'attimo dai lo facciamo perché perché sappiamo che esistono tanti casi di persone sbadate per colpa loro succedono incidenti di infortuni bambini feriti se va bene quindi noi lo facciamo per dimostrare che si può fare ma attenzione l'adulto ci deve sempre essere l'adulto deve supervisionare sentite che il parolone quindi amici se vi fa piacere commentare commentate pure sappiate che dopo un po io vi blocco e vi cancello e non ci fermeremo mai era un piccolo sfogo